Giorni d'attesa nel campionato di terza serie per la composizione degli organici e la creazione dei tre gironi. La sessione di udienze della sezione Collegio di Garanzia del CONI sulle controversie in materia di ammissione e esclusione dei campionati professionistici si svolgerà lunedì 26 luglio prossimo a partire dalle ore 16. La sessione di udienze prevede i sette ricorsi del Chievo-Verona, avverso l'esclusione dal campionato di serie B, poi i ricorsi di Carpi, Casertana, Novara, Paganese, San Benedettese, escluse dal campionato di serie C. Infine il ricorso della Cavese, che ha impugnato la delibera del Consiglio federale della FIGC, che ha stabilito criteri e procedure ai fini dell'integrazione dell'organico di serie C per la prossima stagione agonistica. Dunque nessuna società ha mollato, almeno per il momento, cercando di salvarsi in calcio d'angolo tramite l'ultimo grado di giudizio sportivo che potrebbe, anche se appare molto difficile in realtà, ribaltare i due precedenti. Per il verdetto bisognerà però attendere qualche giorno con l'intenzione di chiudere gli organici al massimo entro la fine del mese. Ricordiamo che dopo la rinuncia del Gozzano tra le formazioni di serie D, spera in primis l'FC Messina, mentre hanno presentato domanda di ripescaggio Cavese, Arezzo, Fano, Fidelisandria, Latina, Lucchese, Pistoiese, Siena e Bisceglie. Questo il quadro complessivo al termine dell'iter, la composizione dei tre gironi. La Lega Pro ha fatto sapere già da tempo che seguirà il criterio geografico orizzontale, quindi il Campobasso dovrà giocare sicuramente nel girone C con le altre squadre, molte delle quali già partecipavano lo scorso anno, gli scorsi anni, molte delle quali sono davvero delle squadre che rappresentano città importanti. Basti ricordare per tutte il Bari ed il Palermo.